SIGLA Alcuni ragazzi adorano le macchine, i vestiti firmati, i selfie, i soldi, musicisti famosi, celebrità. Io ho capito che adoro il cibo. Sei ebreo da parte di madre. Lui è musulmano da parte di suo padre. Scusate, l'ateismo si eredita dalla madre oppure dal padre? Il mio nome è Abraham Solomon Ode. Qualcuno mi chiama Avraham, ogni tanto è Ibrahim. Io preferisco Abe. Tant'io da qui ma aia da me. Sano ti ma aia da me. Sano ti ma aia da me. Sano ti ma aia da me. Conosco già qualche trucchetto. Tu puoi insegnarmi. Potrebbe servirmi una mano. Voglio fare il bar mitzvah e voglio andare anche alla moschea. Perché non posso fare entrambe le cose? Oh, cavolo. Perché i musulmani non bevono vino? L'alcol offusca l'intelletto. Non l'hai mai notato in tuo padre? Quello è un ramentaco. Stavo pensando di chiamarlo... Terribile. La cucina fusion è fusione, non confusione. Chiamare il faloffe il cibo nazionale è un altro modo in cui Israele si è appropriato della nostra cultura. Non è giusto. È stato un errore enorme. Portare un bambino nelle vostre vite è la pasta. Sono contento. È che non so cosa fare. Io non vinco mai. Forse la tua generazione riuscirà in qualche modo a vivere in pace. No? Non puoi sceglierti la famiglia, ragazzo. A direi. No? Non puoi sceglierti la famiglia, ragazzo. Ma, anche se ne dormite l'armi. No? Non puoi sceglierti la famiglia, ragazzo.